Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Dopo i casi legati alle baby gang, ancora un episodio ad Arezzo che ha visto come vittima un minore in pieno centro città. Il ragazzo è stato avvicinato da un 19enne che dietro alcune intimidazioni, fanno sapere gli inquirenti, si è fatto consegnare una catenina. Non era la prima volta che il minore veniva preso di mira nel caso precedente. Il 19enne aveva chiesto di consegnargli il paio di scarpe di ginnastica di marca che stava portando. Sul caso è intervenuta la squadra mobile di Arezzo che ha portato avanti le indagini e appunto risalita al 19enne denunciato per rapina. E adesso invece torniamo sul caso del medico aggredito all'ospedale della Fratta. Abbiamo fatto il punto sulle aggressioni ai sanitari. Un fenomeno davvero in grande ascesa. Il servizio. Ci sono dati nazionali che confermano anche dati regionali dell'osservatorio regionale. Pronto soccorso è l'ambiente dove avvengono maggiormente aggressioni, poi seguito dagli servizi di psichiatria, CERD, CUP e poi a caduta tutti gli altri servizi dove più o meno avvengono però in minor misura. Quello delle aggressioni ai sanitari è un fenomeno in forte aumento. Nella ASL Toscana sud-est, cioè nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, ce ne sono state 128 nel 2021, 234 nel 2022 e nei primi tre mesi del 2023 siamo già a 104. L'ultimo in ordine di tempo al pronto soccorso della Fratta a Cortona. Ferire un medico, un quarantenne che dopo un litigio con un vicino di casa si era spostato in un bar e anche qui aveva creato disagi. Poi l'intervento dei carabinieri e il trasporto in ospedale dove il quarantenne si è scagliato contro i sanitari, ferendo al volto il responsabile del pronto soccorso. Negli ultimi casi che abbiamo avuto nella nostra azienda, questo della Fratta, un altro caso che è successo al pronto soccorso di Orbetello, le forze dell'ordine che intervengono per una citazione psicomotoria e chiamati per urla, per violenza in un bar come è successo ad Arezzo o in una casa come è successo per l'accesso al pronto soccorso di Orbetello, queste persone che sono violente vengono caricate in ambulanza perché viene chiamata all'ambulanza con dei volontari, tra l'altro senza medico, senza nessun parere medico e vengono portati al pronto soccorso. La domanda che io stamattina così mi sono fatto e continuo a farmela e la faccio anche a voi giornalisti è, ma queste persone hanno dato il consenso ad andare al pronto soccorso? L'articolo 32 della Costituzione prevede che per qualsiasi atto sanitario ci sia un consenso informato ad ogni atto di natura medica o nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza il suo consenso a meno che non ci siano i casi previsti dalla legge, quindi il trattamento sanitario è obbligatorio. Se queste persone vengono violente, vengono caricate in un'ambulanza e poi arrivano al pronto soccorso, i medici e gli infermieri del pronto soccorso non sono lì a fermare la violenza, sono lì a curare le persone che hanno dei problemi di salute. Non siamo i tutori dell'ordine per fermare le persone violente, ma senza polemica nei confronti di nessuno. Tra l'altro la nostra azienda, il direttore generale, il dottor Durso, ha fatto un protocollo di intesa come previsto dalla norma 113 del 2020 con le prefetture di Arezzo, Grosseto e credo anche di Siena, che se non è fatto verrà fatto a breve, per gestire le modalità di intervento congiunto tra polizia, forze dell'ordine e operatori sanitari. Dopo l'episodio anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni e l'assessore alla sanità, Silvia Spensierati, hanno espresso solidarietà a tutti i lavoratori dell'ospedale. La denuncia adesso, per fatti simili, scatta d'ufficio. Non ci deve essere più la lesione grave o gravissima, basta che sia aggredito. Dà un aiuto all'operatore sanitario che viene aggredito in quanto non deve più fare la querella di parte, perché la querella di parte spesso non viene invagita per timori delle ripercussioni o delle vendette successive. È venuto a mancare Toto Cutugno dopo una lunga malattia. Aveva 80 anni, enorme l'ondata di commozione per la morte di uno degli artisti italiani più famosi al mondo. Tra i tanti ricordi è anche quello dell'aretino Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi. Toto, amico mio, scrive Pupo sui social, compagno di innumerevoli e indimenticabili momenti di spettacolo e di vita. Ti auguro buon viaggio, mi mancherai. E poi una foto in cui i due cantanti collaboravano e portavano avanti la musica italiana in ogni angolo del mondo. Torniamo alla cronaca a retina. Tre ragazzi senza biglietto si ribellano al controllore, si rifiutano di dare le loro generalità e alla fine deve intervenire addirittura la polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno denunciato i tre ragazzi per rifiuto di indicazioni sulla propria identità. I tre sono stati poi anche multati. Fa un incidente stradale ed è sotto l'effetto di sostanze alcoliche, a rilevarlo è stata la polizia stradale di Arezzo che nelle scorse ore è intervenuta in un incidente che si è verificato in provincia di Siena. Uno dei mezzi coinvolti era appunto alla guida un'automobilista, risultato poi in stato di ebrezza alcolica. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Ultima settimana di caldo record e allora sentiamo quali sono le previsioni degli esperti. La terza ondata di calore estivo è nel pieno. Almeno sino a sabato 26 agosto compreso dovremmo farci conti. L'anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, affermano gli esperti. È caratterizzato da aria estremamente calda in quota con geopotenziali da record per agosto, tanto che lo zero termico sulle Alpi è addirittura sfiorato i 5.300 metri, con un nuovo record assoluto in Svizzera. Sono previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38 gradi, ma con qualche picco localmente prossimo ai 39 e 40 gradi, non escluso su pianura padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Tuttavia Arezzo potrebbe godere di temperature meno alte. Non figura infatti nell'elenco delle città più roventi stilato da Trebbi Meteo. Secondo le rivelazioni fornite da Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo, la temperatura più alta si è toccata nella stazione di Casarota in Baldarno con 37,2 gradi, assieme a Castiglion Fibocchi, poi Montevarchi con 36,9 gradi. Il valore più alto del comune di Arezzo viene registrato ad ottavo tra Rigutino e Vitiano con 35,9 gradi. C'è da stringere i denti insomma almeno fino a domenica 27 agosto, quando le temperature potrebbero rientrare nelle medie del periodo e una bella pioggia estiva potrebbe portarsi via la calura. E nonostante appunto il controesodo principale ci sia stato nello scorso fine settimana, ci sono ancora dei flussi di traffico importanti lungo le principali arterie, proprio lungo l'autosole. Questa mattina un altro tamponamento a catena intorno alle 11.30 tra Arezzo e Valdarno. Non ci sono stati feriti gravi ma importanti disagi al traffico con lunghi incolonnamenti. E allora abbiamo parlato di caldo, di controesodo per diciamo smorzare un po' questa calura, perché non pensare al Natale o perlomeno insomma al periodo più fresco. Per Arezzo potrebbe arrivare una importante novità, era stata annunciata con una fotonotizia alcune settimane fa dall'assessore al turismo Simone Cherici, parliamo di questo autobus turistico e allora abbiamo cercato di carpire qualche notizia in più. Sentiamo. Riteniamo che sia utile al turista che arriva, è chiaro che non ci possiamo permettere un 54 posti nelle strade che abbiamo, ma è altrettanto chiaro che un minibus di quel tipo, con quelle caratteristiche, sarà un servizio per i turisti, chissà perché magari qualche retina che vorrà farsi la giratina per Arezzo. A disposizione avrà 20 posti e permetterà ai visitatori di scoprire la città e le sue bellezze. Si tratta di un minibus che l'amministrazione comunale ha pensato di mettere al servizio dei turisti e non solo. Se non ci saranno imprevisti, il viaggio inaugurale prenderà il via in occasione della città del Natale, ma il servizio resterà attivo tutto l'anno. Sarà, come dire, su base annua, sarà a listino, sarà stabile come servizio, è chiaro che nel periodo natalizio, se l'azienda che prenderà la concessione ce la farà con i tempi, sarà una cosa che arricchirà anche la città del Natale, con delle modifiche ovviamente a livello di percorso. Però quello è, nei nostri intenti e nei accordi che faremo, un servizio che andrà dall'1.1 al 31.12. Ed intanto, anche se l'inverno sembra lontano, si pensa già alla prossima edizione della città del Natale. Le idee ci sono, ci stiamo lavorando, stiamo cercando di alzare un po' l'asticella, chiaramente, perché sono stati anni increscendo, anche dopo Covid sono andate molto bene le edizioni. Non vogliamo, come dire, a rezzo si dice, rigiocare il cacio vinto, no. Per cui vogliamo sempre fare qualcosa in più. Il prossimo mese di settembre sarà il mese cruciale, in cui metteremo insieme tutti i componenti, le componenti del puzzle, e poi a ottobre vi diremo quello che vogliamo fare. Parliamo di lavoro e divertenza a FIMER, perché i sindacati sono molto cauti in merito al comunicato diffuso ieri dal fondo Greybull McLaren sull'accordo raggiunto proprio con la proprietà per l'acquisto del 100% del gruppo FIMER. Intanto, dicono FIOM e FIM, ci sono aziende, una in particolare dell'indotto, che stanno soffrendo il servizio. Qualcuno da casa si domanderà, ma come, dice, è uscito ora un nuovo comunicato, il matrimonio è fatto, se avesse visto quello e vissuto ciò che abbiamo vissuto noi negli ultimi due anni, capirebbe, abbiamo le nostre ragioni per mantenere alta la diffidenza e valutare e monitorare passo passo, perché ne abbiamo visti troppi improvvisi, facili entusiasmi e sono poi dimostrati poi di fatto delle falsità che hanno portato a improvvisi avvilimenti. E in un momento come questo, con famiglie intere che stanno soffrendo su questo territorio, troviamo che sia semplicemente ignobile ciò che sta avvenendo a continuare a livello delle persone. Sono caute le organizzazioni sindacali in merito all'annuncio da parte del fondo Greybull McLaren dell'acquisto del 100% della FIMER. Nelle scorse ore una riunione assieme alle RSU e a tutti i dipendenti e adesso si attendono gli sviluppi. L'annuncio nelle scorse ore, con un comunicato ufficiale, il fondo Greybull Capital ha annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante e irrevocabile con il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti di FIMER per l'acquisizione del 100% dell'azienda. L'operazione sarà realizzata attraverso la società controllata McLaren Applied che in questo modo entrerebbe nel settore delle rinnovabili. La promessa è di investire 50 milioni di euro, i primi 5, non appena il Tribunale di Milano autorizzerà a immettere finanza urgente. Nel momento in cui arriva l'autorizzazione c'è già immediatamente la disponibilità ad immettere i 5 milioni. Trapela però anche un altro passaggio che credo sia conseguenziale per far sì che Greybull McLaren eroghi i primi 5 milioni ed immetta questa liquidità che è quella di cambiare il Consiglio di Amministrazione. Quindi ci sono due cose che vanno in parallelo ed entrambe si devono verificare l'una conseguenziale dell'altra. Intanto, secondo i sindacati, si cominciano a sentire gli effetti dell'avvertenza FIMER nel Valdarno Aretino. I dipendenti dell'opificio tecnologico osserveranno domani due ore di sciopero. Inizia a scontare gli effetti anche se non è direttamente collegata e quindi a quella che è la realtà FIMER, però è un ex ramo dell'indotto di FIMER che inizia ad essere in difficoltà. Sarà una giornata speciale, quella di lunedì prossimo al Santuario della Verna, una di quelle da ricordare nel trentesimo anniversario dalla visita di Papa Giovanni Paolo II. Due preziose reliquie del santo saranno consegnate in dono e francescani e saranno poi esposte all'interno della basilica accanto all'abito di San Francesco. La solenne liturgia eucaristica sarà celebrata alle 11 presso la Basilica della Verna dal Cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito della città del Vaticano e arciprete emerito della Basilica di San Pietro. Proprio durante il rito saranno consegnate all'Averna ed esposte poi al pubblico le due reliquie di San Giovanni Paolo II, una veste talare bianca e una reliquia del suo sangue. Alla cerimonia parteciperà anche Domenico Gianni. Adesso invece parliamo del Museo Oro d'Autore ad Arezzo che diventa di rilevanza regionale. A solo un anno dalla sua inaugurazione il Museo Oro d'Autore ottiene il riconoscimento di museo di rilevanza regionale dalla Regione Toscana. Un nuovo passo verso il progetto di valorizzazione della cultura e artigianalità orafa retina varato dal Comune di Arezzo, dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dalla Regione Toscana. Con un totale di 783 i musei presenti all'interno della Regione, 93 istanze presentate alla Regione Toscana e 82 i musei riconosciuti di rilevanza regionale, solo due di questi sono nella città di Arezzo, il Museo Oro d'Autore appunto e il MUMEC, il Museo dei mezzi di comunicazione. Oro d'Autore inaugurato nel luglio 2022 e registrato oltre 6.000 ingressi nonostante le aperture limitate al fine settimana. Si tratta di una collezione unica nel suo genere che ha saputo negli anni attrarre l'interesse di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone e la curiosità artistica di nomi di rilevanza internazionale, come Mario Botta e Alessandro Mendini, in molti casi arrivando a coinvolgere anche il mondo della moda. Ci avviciniamo all'edizione di settembre della Giostra e giovedì 24 agosto alle 15 scatterà il click Giostra Day per la vendita proprio dei biglietti per la 144esima edizione che si svolgerà domenica 3 settembre. I biglietti saranno poi ritirabili sabato 26 agosto presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della Giostra, il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi resterà attivo dalle 15 alle 18, come dicevamo, di giovedì 24 agosto. Sono quattro al massimo i tagliandi che ogni cittadino potrà richiedere. Ha fatto registrare il tutto esaurito all'epogiola la nuova commedia del Polvarone, Brigitta, dammi un bacino che entra di diritto nel novero delle più belle commedie scritte da Roberta Sodhi. Il pubblico ha davvero apprezzato con applausi scroscianti. Questa era la pièce numero 99 per la compagnia appunto del Polvarone che replicherà la commedia ad Arezzo al Centro Affari in occasione della giornata per il Calcit e sarà festa grande il prossimo 16 settembre perché per la compagnia teatrale ci sarà un importante traguardo da tagliare, ovvero appunto il centesimo spettacolo per la compagnia del Polvarone. Al via in queste ore ad Arezzo, domani il concerto inaugurale alle 21.30, il Polifonico. Siamo arrivati alla settantunesima edizione, il Polifonico sembra proprio godere di ottima salute perché quest'anno l'edizione è ricca in termini di tempo di esecuzione, di qualità dei cori e di difficoltà del programma. Sei giorni di concerti, concorsi, workshop e approfondimento sul mondo della coralità a livello internazionale. Dal 22 al 26 agosto torna così a Arezzo la settimana del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, anche quest'anno con un rinnovato interesse nei confronti della manifestazione attestato dalla presenza di ben 13 cori in concorso. Un convegno dedicato alla musica corale del Novecento, una masterclass per la scuola per direttore di coro in cui verrà a gestire tutto il lavoro il maestro Ambros Ciopi, che è uno dei migliori professionisti del campo dalla Slovenia, col suo coro universitario che ha appena vinto il premio come miglior coro del mondo al concorso internazionale di Hong Kong. Lo stesso coro farà il concerto inaugurale alla chiesa di San Domenico il 23 sera. Poi inizia il vero e proprio concorso al Caurum Hall, quindi all'auditorium Guido d'Arezzo, in cui è stato rimesso in funzione questo spettacolare meccanismo di riverberazione computerizzata che offrirà al pubblico un'esperienza d'ascolto veramente interessante. Sabato alla mattina si chiuderà il concorso e al pomeriggio ci sarà il Gran Premio Guido d'Arezzo, dove i migliori cori si contenderanno l'ultimo importante premio che permetterà loro l'anno prossimo di andare a incontrare gli altri cori che hanno vinto nei nostri concorsi partner a livello europeo. Siamo di fronte ad un'edizione veramente internazionale che tocca praticamente tutti i cinque continenti, che è nelle condizioni di essere un luogo e un momento di certamente esibizione, ma anche di approfondimento culturale, ma anche di confronto tra tecniche nuove e scienza intorno alla musica. Via Davide di Pasquale, l'Arezzo torna su Marco Bellic, due settimane dalla trasferta di Rimini, Giovannini e Cutolo rimettono appunto in discussione la difesa per sostituire uno dei centrali acquistati proprio nell'ultimo calcio mercato. L'Arezzo ha quindi riaperto la pista che porta Bellic, già trattato un mese fa in uscita da Vicenza, classe 99, mancino strutturato fisicamente alle caratteristiche che fanno al caso di indiani. Domani intanto alle 11 in diretta streaming la presentazione ufficiale delle nuove maglie a Maranto dalla sede di uno degli sponsor principali, ovvero la 1AR. Ed infine parliamo di Taekwondo, conto alla rovescia per la nuova stagione del centro Taekwondo Arezzo, e il dodicesimo anno di attività della scuola diretta dal maestro Andrea Rescigno prenderà il via lunedì 4 settembre con una settimana di allenamenti a porte aperte in cui bambini e ragazzi potranno mettersi alla prova nella spettacolare disciplina dei calci in volo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.